E' una forma piccola dedica a chi arriverà a voi da matrimonio. con il capo in modo che poi possiamo anche risponderti alla benazietta diciamo quindi poi se vuoi ti do carta e penna a seguire altri messaggi basta un'etichetta che sarebbe tosti e se vuoi istruire la divina comedia per me non è un problema ovviamente vedi manca a fare la possa? vedi ma hai detto? ma veramente non l'avete riconosciuto no ciao ciao c'è uno di dietro non si torna due grazie 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 eccoci bravissima 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 bravo Grazie.